Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box, detto questo. Andiamoci dentro col video. Oggi vi parlo di una giovane donna precipitata in un inferno terrestre e poi scomparsa in circostanze misteriose. La sua storia lascia una scia di domande irrisolte tra presunti inganni, relazioni controverse e lacune nell'intervento delle autorità. Un caso che mette in luce il peso delle decisioni altrui e i pericoli della vulnerabilità, della fiducia mal riposta. Marzia Capezzuti nasce a Milano l'8 marzo 1993. È una bambina dai grandi occhi blu. Ha soltanto sette anni quando i suoi genitori si separano. Suo padre Ciro si rivolge agli assistenti sociali per denunciare una complicata situazione familiare, siccome tra lui e sua moglie c'è troppa conflittualità e questo di certo non fa bene alla figlia. Chiede quindi che Marzia venga temporaneamente allontanata e affidata a una comunità per l'assistenza dei minori. La richiesta di Ciro viene accolta, ma la crescita di Marzia presenta ugualmente delle difficoltà. Diventa un'adolescente con delle fragilità psicologiche, una bambina nel corpo di una donna e quando raggiunge la maggior età viene trasferita in una struttura per adulti avarese. Marzia sogna di trovare l'amore, di essere apprezzata dal suo partner, cerca qualcuno che la abbracci, che la protegga e che le voglia bene. Ha, ahimè, fin troppa fiducia nel prossimo. Anzi, le risulta davvero difficile percepire la malvagità che può nascondersi dentro alcune persone. Quando lascia la comunità, Marzia va a vivere con suo padre, ma il loro rapporto rimane complicato. Marzia vorrebbe che le sue esigenze venissero soddisfatte. Desidera uscire la sera, andare in giro, ma il papà Ciro non glielo permette. È preoccupato. A Marzia, infatti, viene diagnosticato un ritardo mentale di media gravità, con conseguenti disturbi della condotta. Nel 2012, una commissione di esperti certifica che lei ha una minorazione che causa difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa. Dunque, attiva un processo di svantaggio sociale e, come spesso accade, di emarginazione. Per tali motivi, le viene attribuita un'invalidità del 100% con annessi in abilità a lavorare e l'Inps le riconosce un'indennità con l'accompagnamento del valore di 817,43 euro, che con gli anni si incrementa raggiungendo 1174,12 euro. Ciro, per tutelare Marzia su consiglio di un assistente sociale, chiede al Tribunale di Milano di diventare l'amministratore di sostegno di sua figlia. Il giudice, però, non riconoscendo la patologia di Marzia, rigetta la richiesta. Secondo la sentenza, la ragazza può provvedere da sola ai suoi interessi, in quanto è stato stabilito che sa riconoscere il valore dei soldi che percepisce. Marzia, per il giudice, non necessita di un amministratore di sostegno. È libera di autogestirsi. Tuttavia, resta una ragazza vulnerabile e indifesa. Vi ho detto che ormai è maggiorenne, ed è vero. Marzia, però, pensa e si comporta come una bambina. Intanto il rapporto con suo padre Ciro diventa ancora più teso. Quanto alla madre di Marzia, lei nel frattempo si è risposata e vive con un uomo di nome Vincenzo. Un giorno, nel 2014, Marzia e suo padre discutono per un ragazzo che lei ha conosciuto su Facebook, Antonio. Marzia si è innamorata follemente di lui e chiede al padre i soldi per poterlo andare a trovare a Ponte Cagnano-Faiano, nella provincia di Salerno, in Campania. Ciro, però, comprensibilmente si oppone. Non sa chi sia questo Antonio e, in realtà, neanche Marzia lo conosce, visto che i due hanno avuto soltanto contatti via chat. Marzia, allora, si arrabbia. Marzia, insulta suo padre, lo accusa di essere un tirchio e lo spinge. Ciro non ce la fa più, perde la pazienza e le dà uno schiaffo. Questa, per Marzia, è la goccia che fa traboccare il vaso. La ragazza prende la valigia, la riempie con le sue cose e se ne va, decisa a trasferirsi a 800 chilometri da Milano. Dalla Lombardia si stabilisce a Ponte Cagnano-Faiano, per stare vicino al suo fidanzato, che da virtuale diventa effettivo. I due iniziano a convivere, stanno bene insieme, ma chiaramente la famiglia di Marzia si preoccupa moltissimo, visto che non sa chi sia questo fidanzato. Per ben due anni, il padre e la madre di Marzia perdono le sue tracce, non hanno più sue notizie. Nel 2016, dopo un appello a chi l'ha visto, i genitori la ritrovano, per l'appunto, a Ponte Cagnano-Faiano, in compagna di Antonio. Marzia sta abbastanza bene, sembra serena. Gli assistenti sociali del comune fanno visita regolarmente a lei e ad Antonio e li trovano in sintonia. La coppia ha affittato un appartamento e conduce a una vita semplice e tranquilla, si sostiene grazie alla pensione di lei e al lavoro di raccolta di rottami di ferro svolto da lui. Eppure, tra novembre e dicembre di quell'anno, qualcosa cambia. Marzia conosce una signora del posto, Barbara Vacchiano. La donna ha un fratello di nome Alessandro, di cui Marzia si innamora follemente, fino a credere che sia lui il suo vero amore. Così, nel 2017, Marzia lascia Antonio e si fidanza con Alessandro, che vive con sua sorella Barbara e il compagno Damiano Noschese, più i loro figli. Insomma, si tratta di una numerosa famiglia allargata. Barbara e Damiano lavorano insieme, anche loro sono coinvolti nella raccolta del ferro e si occupano di piccoli traslochi. Barbara, più grande del compagno di quasi dieci anni, ha messo al mondo tre figli, ma non è pubblicamente dettagliato se li avesse avuti tutti con Damiano. Non è poi nota l'identità del figlio minorenne, mentre i più grandi si chiamano Vito e Anna Maria. Infine, come detto, in casa con la famiglia Vacchiano-Noschese vive anche Alessandro, il fratello di Barbara, e ora pure Marzia entra a far parte del nucleo. Per Barbara, Marzia diventa come un'altra figlia, o almeno, questo è ciò che dice. Marzia è una ragazza di buon cuore e quando Barbara si ammala, lei è sempre pronta a starle vicina e ad accudirla. Tuttavia, ripeto che, a causa della sua disabilità intellettiva, Marzia non è autosufficiente. Ecco perché aveva vissuto tanto in comunità prima di stabilirsi da suo padre. I genitori di Marzia, che adesso grosso modo hanno sue notizie, non vanno mai a trovarla, ma la sentono al telefono una volta al mese. La ragazza non ha un cellulare e li chiama con quello di Barbara. Nonostante percepisca i soldi della pensione, Marzia un telefono non lo compra mai. Ciro più in là si dirà pentito di essere stato assente, avrebbe dovuto interessarsi di più a Marzia, verificare di persona come stava, pur non potendo impedirla di fare le sue scelte, perché la figlia era maggiorenne e lui non era stato disegnato come il suo tutore. Ciro temeva di perdere del tutto i contatti con lei, perché Marzia era una ragazza testarda che si risentiva se veniva rimproverata e lui non voleva rischiare di fare un passo più lungo della gamba andandola a trovare. Insomma, e se poi Marzia si fosse rifiutata pure di sentirlo al telefono quella volta al mese? Tornando agli eventi, la storia tra Marzia e Alessandro sembra andare per il neglio, i due ragazzi sono innamorati e stanno bene insieme. Ormai la loro relazione va avanti da circa due anni, così Marzia decide di presentare il fidanzato a sua madre, Laura. La mattina del 30 agosto 2019, Marzia e Alessandro partono insieme per raggiungere Bollate, in provincia di Milano, e si dirigono a casa della mamma di Marzia e del marito Vincenzo. In realtà si presentano da Laura senza preavviso, con Alessandro che è ubriaco. Laura e Vincenzo chiaramente li fanno accomodare, Laura prepara agli ospiti inattesi qualcosa da mangiare, da modo a entrambi di fare una doccia, poi fornisce loro un cambio di vestiti e sistema il divano per la notte, affinché Marzia e Alessandro rimangano lì a dormire. Ciò nonostante l'incontro non va a buon fine. Laura si preoccupa perché Alessandro è molto più grande di Marzia, di circa nove anni, e soprattutto perché ha evidenti problemi con le sostanze. Questa unione e la famiglia della ragazza non può proprio accettarla. Ancora più quando Laura scopre che Alessandro mette le mani addosso a sua figlia. Così porta Marzia dai carabinieri di Bollate per sporgere denuncia. Vi leggo una parte del contenuto della denuncia di Marzia. Mi sono resa conto che Alessandro abbracava di bevande alcoliche e, a partire dal mese di febbraio 2019, iniziava ad avere atteggiamenti violenti nei miei confronti. In particolare, nel mese di febbraio 2019, per futili motivi, mentre ci trovavamo in mezzo alla strada a Ponte Cagnano-Faiano, mi tirava uno schiaffo in pieno viso. Nel mese di luglio 2019, mentre ci trovavamo per strada a Salerno, lui era ubriaco, e per futili motivi mi tirava ancora una volta uno strattone e uno schiaffo sul volto. Ieri pomeriggio, mentre io e Alessandro stavamo alla stazione centrale di Milano, ancora una volta litigavamo per futili motivi e lui mi tirava tre schiaffi. Per tale motivo, ieri pomeriggio lo lasciavo e mi recavo a casa di mia madre. Alessandro si presentava a casa nostra stamattina alle sette circa e non se ne voleva andare perché pretendeva che tornassimo insieme. Alessandro, da quanto emerge, non vuole che Marzia lo lasci. Laura lo caccia di casa, ma lui riesce in qualche modo a entrare e per vendicarsi, da fuoco a una coperta stesa sul balcone. Poi non si rassegna, per ben due notti dorme davanti a casa di Laura, su una panchina. Nel frattempo continua a bere interi cartoni di vino. Infine, il 9 settembre 2019, Alessandro torna a Ponte Cagnano-Faiano. Adesso Ciro, Laura e Vincenzo sono molto più tranquilli. Marzia ha finalmente lasciato quell'uomo, non tornerà mai più a Ponte Cagnano ora che ha bollate, al sicuro. E invece no. Un mese dopo la partenza di Alessandro, senza preannunciare niente, anche Marzia si ristabilisce a casa di Barbara. La sua intenzione è probabilmente quella di riappacificarsi con Alessandro, ma lui, a casa della sorella, non c'è. La storia tra Marzia e Alessandro non si può rifucire, in quanto nel novembre 2019 lui viene trovato senza vita a Napoli, in piazza Garibaldi, nei pressi della stazione centrale. L'autopsia stabilisce che è morto a causa di un overdose. Cioè nonostante, Marzia sceglie di non tornare a Milano, rimane a vivere con Barbara che, a quanto pare, le vuole molto bene. Eppure, quella sorta di seconda mamma mette in giro una voce tanto assurda quanto terribile. È stata Marzia a uccidere Alessandro. L'ha picchiato fino a rompergli l'osso del collo. Da questo momento in poi, Barbara diventa decisamente ostile nei confronti di Marzia. Un giorno, pensate, chiama Ciro, il padre della ragazza, e riferisce che Marzia ha fatto violenza su suo figlio minore che ha 14 anni. Successivamente però emergono delle foto scattate proprio da Barbara e mandate a un'amica, in cui si nota suo figlio minorenne che si trova a letto con una ragazza. Sono impegnati in un atto intimo, ma non si capisce se la ragazza in questione sia davvero Marzia, perché la foto inviata non è nitida. Barbara commenta scrivendo all'amica, così fa esperienza. In ogni caso, i genitori di Marzia si fidano delle parole di Barbara, conoscono la condizione di fragilità della figlia e credono che non si stia comportando bene. Ciro, il padre di Marzia, autorizza Barbara a denunciarla, ma la donna a questo punto si tira indietro, rispondendo che non è il caso di coinvolgere la polizia. A giugno 2021, Marzia chiama i suoi genitori e riferisce di essere incinta. Ciro, stranito, le chiede di chi sia il bambino. Allora Marzia gli spiega che l'ha concepito con un nuovo fidanzato di nome Giuseppe. Marzia manda anche una foto a sua mamma, ha i capelli corti e le mani poggiate sulla pancia, come a voler mostrare il grembo. Dice che aspetta una femminuccia che chiamerà come lei, Laura. Ciro chiede di poter parlare con questo Giuseppe, ma Barbara gli dice che è un problema, perché Beppe, così lo chiama Marzia, ha avuto un ictus da un paio di giorni e non è più in grado di parlare. in quanto metà del suo corpo è paralizzato. Ciro quindi, con quest'uomo, non potrà mai dialogare. Nel frattempo, Vincenzo, il marito di Laura, dubita fin da subito della gravidanza di Marzia. Dopo questa comunicazione, Laura e Ciro non sentono mai più la figlia telefonicamente. Nell'agosto del 2021 è Barbara che dice ai genitori di Marzia che fin da giugno non riescono più ad accedere al conto su cui la ragazza riceveva la pensione di invalidità, dal valore di 1174 euro. Ciro spiega a Barbara che la banca presso cui era aperto il conto corrente di sua figlia è stata assorbita da un altro istituto, quindi devono recarsi nella nuova filiale per ottenere l'Iban cambiato. Alle 11.49 del 18 agosto, tramite un messaggio vocale, Marzia chiede a suo padre la documentazione per poter accedere nuovamente al suo conto corrente. Così Ciro manda a Barbara tra i dati che le servono. Poco tempo dopo, Barbara dà a Ciro una notizia allarmante a dir poco. Lei, Giuseppe e Marzia hanno litigato e la ragazza se n'è andata via con il suo fidanzato. Dopodiché, un uomo si fa avanti per raccontare un'altra verità, qualcosa di davvero terribile. Riferisce che Barbara, il suo compagno Damiano e i figli Anna Maria e Vito maltrattavano Marzia. Questo testimone dice di averla vista cambiare. prima Marzia era una ragazza felice, sorridente, affettuosa, gentile e disponibile con tutti. Poi aveva iniziato a incupirsi. Era diventata triste e i cambiamenti segnalati dall'uomo riguardano anche l'aspetto esteriore. Prima Marzia aveva dei bei capelli castani lunghi fino alle spalle ma quando l'aveva rivista la sua chioma era diventata rada. Non solo i suoi capelli erano corti ma sembrava che glieli avesse tagliati qualcuno che non era del mestiere come per umiliarla imbruttendola. Il testimone afferma anche di aver saputo che Marzia a casa di Barbara non aveva nemmeno un letto tutto suo dormiva su un materasso poggiato a terra e la poverina non poteva avere contatti con nessuno al di fuori degli abitanti di quella casa. Talvolta veniva addirittura rinchiusa nello sgabuzzino insieme al canne di famiglia questo per nasconderla alla vista di chiunque. Marzia aveva pure provato a scappare ma ogni volta la ritrovavano e se la riportavano in quella casa degli orrori. Il testimone spiega che le cose avevano iniziato a peggiorare da quando il suo fidanzato Alessandro era morto nel novembre del 2019. Dallora Marzia veniva trattata come una schiava e col tempo era diventata succube di Barbara. Dalla paura si faceva addirittura la pipì addosso infatti era costretta a usare sempre assorbenti e pannoloni. imprigionata in una bolla di terrore questa donna ormai non faceva più nulla nemmeno bere un bicchiere d'acqua senza il permesso di Barbara quest'ultima Barbara sommersa da queste accuse le rigetta davanti alle telecamere di chi l'ha visto nel settembre del 2022 ripete che lei a Marzia voleva bene era come una seconda figlia per lei dopo Anna Maria per di più Barbara spiega che suo figlio Vito era rimasto agli arresti domiciliari per otto mesi a causa di una rapina e spesso gli inquirenti facevano dei controlli in casa dunque come poteva tenere Marzia rinchiusa nello sgabuzzino oppure picchiarla le forze dell'ordine se ne sarebbero accorte durante le ispezioni Barbara dice che Marzia non vive più a casa sua da un anno e che ha fatto perdere le sue tracce racconta che Marzia si era già allontanata in passato ma in quei casi voleva farsi trovare per tornare a casa da lei l'ultima volta però la ragazza aveva davvero intenzione di non voltarsi indietro ecco perché non aveva più dato sue notizie eppure per chi indaga la situazione non è affatto questa secondo gli inquirenti Marzia non se n'era andata volontariamente bensì qualcuno l'aveva fatta scomparire ma quando esattamente? non è chiaro di certo però nel mese di aprile e maggio del 2022 non è stata lei a recarsi allo sportello automatico dell'ufficio postale di Fuorni in provincia di Salerno per incassare la pensione quindi chi ha preso i suoi soldi al posto suo? dov'è Marzia? la procura fortemente sospettosa avvia un'indagine per omicidio e occultamento di cadavere e iscrive nel registro degli indagati cinque persone ovvero Barbara il compagno Damiano il figlio ventenne Vito e due conoscenti della famiglia Gennaro Merola e Gennaro Pagano a quanto raccontano i vacchiano noschese Marzia aveva vissuto in quella casa fino alla fine di febbraio o l'inizio di marzo 2022 poi una sera era uscita per non fare più ritorno non aveva lasciato niente di suo nell'abitazione mentre stando a quanto dice Barbara Marzia ogni volta che si allontanava portava con sé i suoi effetti personali nel frattempo la famiglia di Marzia torna ospite a chi l'ha visto e suo padre Ciro fa un appello chiede alle persone di Ponte Cagnano Faiano di rivelare tutto ciò che sanno perché di certo Marzia non è un fantasma e qualcuno deve aver visto la ragazza più di recente dopodiché altri tre testimoni si fanno avanti il primo è un uomo di nome Paolo poi interviene sua nipote Daniela che è l'ex moglie del defunto Alessandro infine Giuseppe il figlio di Daniela e di Alessandro contattano tutti e tre è la redazione del programma perché vogliono far luce sulla verità anche Daniela aveva vissuto nella casa di sua cognata Barbara lo aveva fatto per cinque anni e la definisce come un vero e proprio incubo Daniela si era sposata con Alessandro all'età di 19 anni ed era andata ad abitare nella casa della sorella del marito spiega che Alessandro beveva parecchio e in quelle occasioni diventava molto violento puntualmente la picchiava pretendeva che Daniela andasse a procurarsi i soldi che mancavano alla coppia e che addirittura si prostituisse per permettergli di comprare alcolici Daniela confessa a chi aveva paura di tutti i membri di quella famiglia in casa erano tutti pericolosi dal più piccolo al più grande e a lei era toccato affrontare un'intera gravidanza in quella dimora ostile ciò nonostante Daniela forse un po' ingenuamente per via della sua giovane età pensava di riuscire a cambiare Alessandro tuttavia si era accorta dell'impossibilità di un mutamento con la nascita del piccolo Giuseppe preoccupata la madre di Daniela Maria aveva chiesto allo zio Paolo di andare a recuperare la figlia e di riportarla a casa sua Daniela aveva rimesso piede a casa della mamma ancora avvolta in un velo di terrore tanto che non era lei a incontrarsi con Alessandro per fargli vedere il loro figlio Giuseppe ma agli appuntamenti si presentava allo zio Paolo in un'occasione da brividi Alessandro aveva persino minacciato suo figlio un bimbo piccolo dicendogli che gli avrebbe sparato in testa Giuseppe infatti era solo un bambino quando suo padre Alessandro era finito in carcere aveva sequestrato a scopo di rapina due sacerdoti della parrocchia del Santissimo Corpo di Cristo di Ponte Cagnano Faiano mentre il marito era in prigione Daniela che ormai da tempo non viveva più a casa di Barbara l'aveva però incontrata in paese in quella circostanza la cognata l'aveva aggredita mettendole le mani al collo Barbara era adirata perché pretendeva che Daniela portasse il piccolo Giuseppe in carcere a far visita a suo padre Alessandro in quegli attimi di pura tensione Daniela era riuscita chiaramente a vedere la vera natura di Barbara ora sono 20 anni che Daniela non vive più in casa con lei quanto a Giuseppe il figlio di Daniela e Alessandro riferisce che Marcella aveva vista una sola volta era andato a casa di sua zia Barbara insieme allo zio Paolo e aveva intuito che questa ragazza voleva parlargli raccontargli qualcosa in più sulla morte di suo padre ma era stata fermata dalla paura Barbara le ripeteva stai zitta o ti faccio fare la fine di mio fratello Marcia quindi non parlava ma secondo Giuseppe bastava guardarla negli occhi per leggervi dentro il terrore più cupo era il settembre del 2020 e Paolo anche lui scosso dall'incontro aveva avvertito i servizi sociali tuttavia Paolo spiega che ogni volta che veniva effettuato un controllo Barbara nascondeva Marcia in cantina la legava per non permetterle di scappare e mentiva dicendo che la ragazza non era in casa a questo punto io mi chiedo ci saranno delle procedure prestabilite per accertarsi della presenza di una persona all'interno di una dimora perché gli assistenti sociali non hanno cercato Marcia in tutte le stanze della casa a tentare di chiarire la questione è il sindaco di Ponte Cagnano Faiano il quale dice che quando gli assistenti sociali riuscivano a parlare con Marcia la ragazza diceva sempre di stare bene probabilmente per paura aggiungerei io si scopre che la prima visita degli assistenti sociali era avvenuta addirittura nel 2017 in quanto erano stati allertati dai carabinieri dopo un controllo poi nel 2019 avevano avuto luogo due colloqui protetti con Marcia e anche in questo caso la ragazza aveva affermato di stare bene del resto in quel preciso momento non presentava alcun segno di violenza l'ultima visita risaliva al dicembre 2021 e gli assistenti sociali non avevano riscontrato la presenza della ragazza all'interno dell'abitazione ma Marcia non c'era davvero oppure come sostiene Paolo la stavano nascondendo successivamente i carabinieri avevano chiesto di interrompere le visite per aprire un'indagine sui maltrattamenti ma nessuno era effettivamente intervenuto per allontanare Marcia da quella casa tornando un passo indietro come vi ho detto Paolo avviso gli assistenti sociali nel settembre 2020 durante l'estate dello stesso anno una vicina di casa dei vacchiano noschese vede Marcia che viene aggredita in mezzo alla strada a un suon di schiaffi e che chiede aiuto gridando chiamate i carabinieri chiamate i carabinieri poi Barbara la spinge dentro la propria abitazione qualche giorno dopo la vicina chiede a Marcia perché non se ne vada da quella casa lei risponde che gli avevano sottratto i documenti e che le avevano impedito di vaccinarsi così a causa delle restrizioni per la pandemia non può salire a bordo di un mezzo di trasporto cioè nonostante Marcia aveva comunque cercato di scappare ma era stata recuperata alla stazione di Ponte Cagnano Faiano da Barbara e Damiano la vicina preoccupata fa una chiamata anonima ai carabinieri di Battipaglia raccontando le violenze che ha visto con i suoi stessi occhi e non solo nel novembre 2021 un'altra vicina contatta i carabinieri e racconta che stanno picchiando una donna in via verdi si sentono distintamente i suoi pianti e le sue urla pochi giorni dopo a Marcia viene fatta questa foto a scattarla è un'amica di vecchia data di Barbara preoccupata per le condizioni della giovane la donna chiede a Marcia che cosa le sia successo e lei risponde che è caduta ma si vede che è terrorizzata inoltre questa amica di Barbara tramite i vicini ha saputo che Marcia viene regolarmente picchiata così scatta e invia questa foto a un conoscente il 6 dicembre 2021 e lui in base a quanto afferma a sua volta contatta in modo informale una persona delle forze dell'ordine alla fine di gennaio 2022 diverse persone che vogliono rimanere anonime chiamano il centro antiviolenza di Ponte Cagnano Faiano e riportano all'avvocatessa Stefania De Martino che una ragazza un abitante di quel comune viene maltrattata mostrano all'avvocatessa anche le foto di cui vi ho parlato poco fa Marcia è chiaramente stata picchiata l'avvocatessa quindi denuncia la situazione ai carabinieri di Ponte Cagnano Faiano a febbraio per ben 5 volte il giorno 11 il 14 il 15 il 19 e il 22 del mese una donna riporta Stefania De Martino le confidenze e la preoccupazione crescente che le hanno espresso Anna Maria Vacchiano la figlia di Barbara e altri due ragazzi che frequentano quella casa appunto Marcia versa in condizione di salute pietose non riesce più a fare la pipì da sola e indossa dei pannoloni il 23 febbraio l'avvocatessa si presenta in caserma a Ponte Cagnano Faiano per denunciare le violenze subite da Marcia tre giorni dopo viene sentita in qualità di persona informata sui fatti ma allora dopo questo escalation di segnalazioni perché nessuno fa nulla per salvare Marcia la risposta è quella che vi ho fornito in precedenza quando i carabinieri effettuano un controllo Marcia viene legata e nascosta in uno sgabuzzino risulta che non sia in casa sono otto mesi ormai che Ciro non ha più notizie di sua figlia non sa neanche se è diventato nonno poi nel febbraio 2022 gli arriva una notifica dai carabinieri di Milano che lo convocano in caserma gli dicono che devono porgergli delle domande relative a Marcia perché stanno indagando su una possibile caso di violenza e ovviamente Ciro accetta di rispondere ai loro quesiti innanzitutto i carabinieri gli chiedono se sappia dove si trova Marcia e Ciro risponde che vive con una famiglia composta da persone che le vogliono bene dice che lei è felice di star lì a Ponte Cagnano Faiano i carabinieri gli domandano se Marcia fosse invalida e se percepisse una pensione allora Ciro conferma che a sua figlia era stata riconosciuta un'invalidità del 100% quindi sì incassa un assegno in relazione alla sua disabilità c'è una cosa che però non mi è chiara se vi ricordate Barbara aveva detto a Ciro che Marcia era andata via con il suo compagno Giuseppe quello da cui era rimasta incinta quindi non capisco perché non lo dica in questa sede ai carabinieri non mi è chiaro ipotizzo che non ci credesse perché Vincenzo che è il marito della mamma di Marcia Laura dice che fin dall'inizio ha messo in dubbio questa notizia insomma la notizia della gravidanza di Marcia forse anche Ciro non ci credeva non lo so in questo momento Ciro ancora non lo sa ma la procura di Salerno sta indagando a seguito della segnalazione dell'avvocatessa Stefania De Martino per maltrattamenti una volta rincasato il padre di Marcia allarmato chiama immediatamente Barbara per avere spiegazioni tra l'altro Ciro e Barbara quel giorno rimangono al telefono per 45 minuti Barbara però continua a ripetere che non sa nulla delle violenze di cui Marcia sarebbe vittima dice di non sapere nemmeno dove fosse andata Marcia dunque ora la domanda sorge spontanea in verità Marcia è ancora in quella casa? secondo le persone che si sono rivolte al centro antiviolenza Marcia si trova sempre lì e vi rimarrà fino alla fine di febbraio o all'inizio di marzo in paese sono davvero in tanti a mormorare su quanto Marcia sia marridotta e Paolo accoglie la confidenza di una persona che avrebbe frequentato la casa di Barbara per tanti anni questo testimone gli racconta che per prendersi gioco di Marcia gli abitanti di quella di Mora le infilavano la testa nel gabinetto e tiravano lo sciacquone mentre la filmavano se Marcia ad esempio aveva male a un dente non poteva farsi visitare da un dentista perché ci pensava Barbara a eseguire l'estrazione in prima persona con l'uso di una tenaglia Marcia tra l'altro era dimagrita tantissimo insomma da quanto emerge viveva in assoluto degrado questa povera donna e ancora il Giuseppe di cui Marcia sarebbe rimasta incinta probabilmente non esiste era tutta un'invenzione di Barbara che aveva manipolato la ragazza l'ammontare delle testimonianze non si conclude con quanto vi ho riferito fino a ora perché c'è un altro uomo che pur restando anonimo si fa avanti e afferma che si ricorda bene di Marcia l'ultima volta che l'aveva vista a marzo lei aveva i capelli rasati ed era coperta di lividi la sua testa era piena di ferite il suo viso deturpato e nella sua bocca mancavano i denti quindi la gente in paese sapeva la verità assisteva a quello che stava succedendo ma aveva paura di parlare perché temeva Barbara ogni tanto quando gli abitanti del paese riuscivano ad avvistare Marcia da sola le si avvicinavano per offrirle del cibo dato che la vedevano sempre più magra ma lo facevano di nascosto perché se Barbara l'avesse saputo poi avrebbe maltrattato la ragazza ancora di più Marcia era una brava persona era educata il testimone in questione e altri abitanti di Ponte Cagnano Faiano la incitavano spesso a scappare ma Marcia rispondeva a tutti che non aveva senso fuggire tanto l'avrebbero ritrovata e riportata in quella casa inoltre vi ricordo che Marcia non aveva la libertà di spendere i suoi soldi perché la famiglia di Barbara se ne appropriava sempre Barbara aveva messo in giro per il paese la voce che Marcia fosse scappata con un uomo ormai da un anno ma come detto chi indaga teme il peggio sospetta che Marcia sia morta alla fine si riesce a risalire a una data certa per la scomparsa di Marcia il 6 marzo 2022 proprio due giorni prima del suo ventinovesimo compleanno da allora nessuno l'aveva più vista la sera di lunedì 6 marzo Marcia si trova in casa con Barbara il compagno Damiano il figlio Vito con la sua fidanzata e altri due minori di cui uno è l'altro figlio di Barbara uno dei presenti in base a quanto dichiara ricorda di aver sentito il rumore dei passi prodotto dalle pantofole di Marcia poi il portone che si apriva e la ragazza che domandava dove mi portate al che Barbara gli aveva risposto soltanto vieni con me è ormai buio quando qualcuno vede Marcia uscire di casa non è da sola ma sorretta da Barbara Damiano e il figlio minore della coppia dove la stanno portando trascorre la giornata del 7 marzo e il giorno dopo l'8 marzo oltre a essere la data in cui ricorre la festa delle donne è pure il compleanno di Marcia compie 29 anni un amico si ricorda di questo evento speciale vuole donarle un mazzo di fiori e un piccolo regalo così va a casa di Barbara ma lì non ritrova Marcia e allora dov'è? Barbara gli spiega che la ragazza è tornata a Milano da sua madre Laura ma questa è una bugia arriviamo ai primi giorni di aprile è trascorso quasi un mese da quando Marcia è stata vista uscire di casa con Barbara e altri membri della sua famiglia il primo aprile e il 2 aprile qualcuno si reca al postamat di Salerno Forni e ritira tutti i soldi di Marcia si tratta di Barbara anche se si è camuffata indossa una parrucca per riprodurre la capegliatura di una donna anziana passa un altro mese è il 2 maggio e un familiare di Barbara si reca allo stesso portello postamat per incassare la pensione di Marcia di nuovo insomma non ci sono tracce di Marcia da due mesi nessuno asporto denuncia di scomparsa nessuno la sta cercando ma i vacchiano noschese continuano a prelevare i suoi soldi la procura di Salerno che prima investigava per maltrattamenti e sequestro di persona ora conduce un'indagine per omicidio e occultamento di cadavere i carabinieri mettono sotto sequestro la casa dei vacchiano noschese i telefoni e le automobili della famiglia se i carabinieri di Battipaglia che successivamente i RIS controllano un terreno di via verdi situato a ridosso delle case popolari in cui abitano Barbara e la sua famiglia in quanto sarebbero stati rilevati dei residui di combustione in prossimità di un cassone di colore rosso un abitante della zona che chiede di non essere ripresa comunica all'inviata di chi l'ha visto che a fine febbraio c'era stato un incendio in quel terreno la donna spiega di aver visto Barbara e Damiano bruciare qualcosa che non è riuscita a identificare e dice di aver denunciato il fatto ai carabinieri questo terreno è in uso al padre di Damiano che come sappiamo è il compagno di Barbara i carabinieri hanno messo sotto sequestro il chiosco dove sempre il padre di Damiano vende i meloni situato a circa 100 metri dal terreno in questione in fondo alla via e l'uomo è molto arrabbiato con chi ha ordinato la perquisizione commenta il fatto all'inviata di chi l'ha visto chiedendosi come si sia permesso il giudice di fare una cosa del genere lui non ha mai commesso reati ha sempre lavorato e anche la sua famiglia è composta da onesti lavoratori quanto a Marzia l'uomo dice che l'aveva vista in alcune occasioni sa chi è ma non ci ha mai parlato tuttavia di una cosa è certo la sua famiglia si è sempre presa cura di Marzia tutti le hanno sempre voluto bene dunque non sa il motivo per cui Marzia si era allontanata ma è certo che l'aveva fatto di sua spontanea volontà senza dire niente a nessuno ne l'avevano di certo cacciata di casa gli altri due indagati Gennaro Merola e Gennaro Pagano che non vivevano con Marzia dicono che non si spiegano perché siano stati coinvolti nel caso a fine giugno vengono sequestrati due dvd uno trovato nella camera da letto di Barbara e l'altro all'interno di un container in uso al padre di Damiano un mese dopo a fine luglio due telefoni cellulari di Vito e quello della sua fidanzata vengono sottoposti ad accertamenti ai quali si aggiungono un telefono di Damiano un cellulare di Barbara e un quinto telefono utilizzato da una donna che spesso era presente a casa loro ma non è indagata si tratta delle persone che hanno visto Marzia in vita per l'ultima volta viene anche eseguito un accertamento tecnico su un materasso singolo alla ricerca di eventuali tracce biologiche e viene sequestrato un ennesimo cellulare uno degli indagati della famiglia Bacchiano-Noschese ovvero il figlio minorenne di Barbara viene registrato mentre sta parlando con sua sorella durante una videochiamata tramite un social network Anna Maria allora gli chiede dove l'avete portata e il fratello minore le dice lontano l'abbiamo portata a fare un giro l'abbiamo strozzata Anna Maria ribatte tu? l'hai uccisa tu? io speravo che tu non avessi fatto nulla non ricevendo una risposta dal fratello Anna Maria aggiunge ma tu sei piccolino non hai provato nulla? dopodiché piange il ragazzino esclama sì non dire niente più volte Anna Maria prova a farsi dire dal fratello dove avessero scaricato il corpo di Marzia ma lui non dà mai una risposta precisa questo videochiamata esaminata dalla procura funge da confessione infatti la svolta nelle indagini è finalmente vicina il 25 ottobre 2022 iniziano le ricerche al confine tra Ponte Cagnano-Faiano e Monte Corvino-Pugliano nel Bosco San Benedetto sulla base delle informazioni trapelate nella conversazione tra i fratelli gli agenti percorrono un chilometro prima di trovare nei pressi di un casolare abbandonato il corpo di una donna in avanzato stato di decomposizione quella è Marzia non ci sono dubbi gli assassini non si sono neanche preoccupati di seppellirla ed è chiara la loro convinzione sulla vittima la sua vita non valeva niente se non 1174 euro al mese intanto due testimoni intervistati dal programma storie italiane sostengono che il corpo di Marzia sia stato portato da pochi giorni nel casolare dove le forze dell'ordine lo hanno rinvenuto uno dei due racconta che sentiva una strana puzza da circa 5 giorni ma siccome in quella zona i cacciatori uccidono i cinghiali molto spesso era convinto che si trattasse della carcassa di questo animale prima di allora quel fettore non l'aveva avvertito e lui passa 4 o 5 volte al giorno nei pressi di quel casolare da qui la sua deduzione è che il cadavere di Marzia fosse stato portato lì di recente ma quindi gli assassini dove hanno tenuto i resti di Marzia da marzo a ottobre 2022 emerge a questo punto che il corpo di Marzia era stato portato in quel casolare abbandonato con addosso il pigiama un paio di pantaloni blu con le stelle color oro dei cuori e dei fiori rosa e un paio di calzini neri ai piedi a cercare di coprirla c'erano tre maglioni sovrapposti l'uno all'altro gli inquirenti individuano anche due cerotti uno è ancora attaccato alla testa di Marzia mentre l'altro simile al primo viene ritrovato vicino al suo corpo si rileva l'impronta di una mano su un muro del casolare e viene repertato un dente spezzato appartengono entrambi a Marzia si scopre che Damiano il compagno di Barbara bazzicava sempre nei pressi del casolare per raccogliere del ferro viene disposta all'autopsia e fin dai primi accertamenti effettuati dal medico legale si evidenziano fratture e lesioni non recenti al braccio destro alle costole e a una gamba alla giovane vittima mancano diversi denti tra cui gli incisivi superiori si intravede anche una lesione all'ossoioide che solo un accurato approfondimento scientifico potrà confermare ma se così fosse significherebbe che Marzia è stata strangolata a questo punto la PM titolare dell'inchiesta Licia Vivaldi ordina i carabinieri di sequestrare altri due cellulari uno dei quali appartiene al figlio minorenne di Barbara Vacchiano intanto le indagini proseguono il lunedì 26 dicembre 2022 gli uomini del RIS di Roma iniziano le analisi su alcuni oggetti sequestrati a giugno in casa Vacchiano a Noschese tra cui un'arma una pistola cromata con guanciali in plastica di colore nero calibro 8 al vaglio degli inquirenti ci sono inoltre cartucce di diverse marche un tampone con verosimili residui di sostanza ematica rilevata sul pavimento della cucina e un altro tampone con residui di sostanza biologica rivenuta sulla superficie di plastica trasparente utilizzata per avvolgere un materasso trovato in cantina si rilevano dei fluidi corporei sulla federa di un materasso e sulla parte in gomma piuma infine la procura di Salerno dispone degli accertamenti irripetibili sul cellulare di una giovane donna straniera che avrebbe avuto dei contatti con uno degli indagati proprio l'8 marzo cioè il giorno del 29esimo compleanno di Marzia gli avrebbero detto stiamo portando un cadavere una confidenza fin troppo sconvolgente per restare segreta era il corpo di Marzia il 19 aprile 2023 i carabinieri del nucleo investigativo di Salerno arrestano con l'accusa di omicidio sequestro e tortura Barbara Vacchiano e il compagno Damiano Noschese il figlio minore che ora ha 15 anni viene arrestato per concorso in omicidio e occultamento di cadavere Vito il figlio maggiore della coppia è già agli arresti per altri reati minori e resta indagato per concorso nei reati di omicidio e occultamento di cadavere ma sembra non fosse presente durante il delitto di Marzia Anna Maria Vacchiano la figlia di Barbara di 22 anni è indagata per maltrattamenti eppure i due amici di famiglia Gennaro Merola e Gennaro Pagano continuano a essere indagati Anna Maria Vacchiano dice però che lei Marzia non l'ha mai toccata neanche con un dito hanno vissuto insieme sì riferisce pure che sua madre Barbara trattava Marzia abbastanza bene ma poi dopo marzo 2021 qualcosa era cambiato però lei a quel punto non abitava più in quella casa vi si recava ogni tanto per far visita a sua mamma e ai suoi fratelli e in quelle occasioni ammette aveva visto Marzia con dei lividi in faccia una volta dice la voleva portare all'ospedale perché la ragazza stava davvero molto male Marzia inizialmente aveva accettato ma poi aveva cambiato idea Anna Maria un pomeriggio aveva pure visto sua madre che costringeva Marzia ad ingoiare un mozzicone di sigaretta acceso la poverina era anche stata marchiata a fuoco sulla sua schiena si notano due lettere la B e la V le iniziali della sua carnefice Barbara Vacchiano era malnutrita e ogni pietanza che le concedevano di mangiare era condita con peperoncini piccanti veniva costantemente omigliata ogni volta che Barbara e Damiano andavano in bagno era lei che doveva tirare lo sciacquone Anna Maria afferma di aver visto Marzia semicosciente il 5 marzo si trovava a terra nello sgabuzzino oscillava con il corpo avanti e indietro ripetendo Barbara Barbara via Verdi era tutta livida aveva la faccia rossa e per l'eccessivo gonfiore gli occhi le si erano completamente chiusi le sue gambe erano viola Anna Maria le aveva chiesto di andare via con lei ma Marzia si era rifiutata non riusciva neanche a camminare e nelle condizioni in cui si trovava non sarebbe arrivata da nessuna parte Anna Maria allora aveva chiesto aiuto aveva raccontato tutto prima al centro antiviolenza e poi alla procura di Salerno riportando cosa gli aveva fatto suo fratello minore di 14 anni ecco perché il giudice Alfonso Scermino riferisce che è l'unica dei vacchiano noschese ad aver mostrato un rigurgito di coscienza ad aver conservato un residuo di umana pietà alla procura di Salerno Anna Maria riferisce che suo fratello gli ha detto non ti preoccupare la colpa non se la prende mamma mi accuso di tutto io Marzia non c'è più le abbiamo buttato l'acido addosso nei pressi della frestola e delle sette bocche di Faiano oltre a parlare con la sorella il ragazzino aveva raccontato pure a un'amica delle torte inflitte a Marzia come se nulla fosse come se fosse la normalità gli aveva spiegato all'amica che Marzia aveva ucciso suo zio Alessandro per questo veniva tenuta in casa e le ordinavano di pulire di cucinare e la picchiavano a perpetrare queste violenze erano il ragazzino quattordicenne suo fratello maggiore Vito e la madre Barbara il ragazzino una sera aveva inviato a questa amica una foto che ritraeva la testa di una persona con sopra dell'ovatta sporca di sangue Marzia non aveva ubbidito e Barbara l'aveva picchiata fino a spaccarle la testa verso le 10 della mattina dell'otto marzo il quattordicenne aveva videochiamato l'amica dicendole che si trovava con suo padre su un furgoncino dopo aver terminato la videochiamata le aveva scritto che avevano un cadavere a bordo l'ordinanza di custodia cautelare è composta da 280 pagine e leggerla mette i brividi il giudice ripercorrendo il calvario di Marzia Capezzuti scrive che gli indagati hanno maltrattato torturato e ucciso una povera ragazza disabile con una crudeltà che lascia sconcertati con una malvagità al limite del comprensibile non c'è stata nessuna pietà nessuna compassione e nessun tentennamento l'autopsia conferma che Marzia presenta quella lesione all'ossoioide nel collo tra il mento e la cartilagine della laringe gli accertamenti istologici evidenziano un'interruzione di continuità nella struttura osteocartilaginea Marzia quindi è stata strangolata i genitori del ragazzo 15enne coinvolto nell'omicidio di Marzia Capezzuti perdono la patria potestà per decisione del tribunale per i minorenni il giudice nelle motivazioni della decisione ha fatto riferimento al basso valore morale e alla spregiudicatezza degli indagati che non hanno tenuto minimamente conto del benessere del figlio adolescente il 18 aprile 2024 comincia il processo nei confronti di Barbara Vacchiano e Damiano Noschese accusati di omicidio volontario occultamento di cadavere maltrattamenti sequestro di persona e uso in debito del banco post della vittima il figlio minore di Barbara invece viene condannato a 16 anni di reclusione per omicidio in concorso il 13 giugno 2024 ragazzi e ragazze questo è tutto per ora quando si concluderà il processo vi aggiornerò su tutte le condanne ovviamente ma ora arriviamo alle conclusioni credo che questo caso sia davvero terribile è inammissibile sfruttare a guardare così di una ragazza per di più con delle vulnerabilità la verità è una Barbara non voleva accettare che suo fratello fosse morto perché era un tossicolo dipendente e senza alcuna ragione incolpava Marzia caricandole addosso il peso degli errori commessi da Alessandro servendosi di questa ignobile scusa lei e la sua famiglia hanno maltrattato in modi indicibili Marzia che ha subito torture atroci c'è anche un altro aspetto importante che proprio non riesco a trascurare il ruolo dei genitori di Marzia Ciro suo padre si sente terribilmente in colpa per ciò che le è successo purtroppo si era un po' disinteressato alla figlia convinto che stesse bene però Marzia ha trascorso ben 5 anni della sua vita in quella casa ed è assurdo che né suo padre né sua madre Laura abbiano mai avuto la premura di andare a verificare di persona in che condizioni vivesse la figlia una donna fragile a tal proposito però emerge anche un altro problema se anche Ciro fosse andato a trovare Marzia e avesse appurato che la figlia non poteva restare in quella casa non avrebbe comunque potuto obbligarla a tornare a Milano perché Marzia era un'adulta e lui non era mai stato designato come il suo tutore in pratica Marzia era una cittadina libera poteva andare dove voleva vi ricordo che il giudice del tribunale di Milano aveva concluso che Marzia era in grado di comprendere il valore dei soldi di conseguenza per lui non aveva bisogno di assistenza io però voglio osare nel dire questa cosa non credo sia stata una scelta saggia prudente perché Marzia aveva la capacità intellettiva di una ragazzina non percepiva i pericoli è triste anche riflettere sul fatto che tutto il paese sapeva come veniva trattata Marzia ciò nonostante tutti i testimoni hanno parlato troppo tardi quando Marzia era già sparita da tempo e poi la polizia come spesso avviene non è intervenuta in tempo mi rammarica molto notare che nulla cambia davvero la prevenzione qui in Italia sembra inesistente ci si mobilita sempre e solo quando la vittima muore e questo non è logico né giusto è vero durante i colloqui con gli assistenti sociali Marzia ha mentito dicendo che stava bene ma è solo per paura che ha taciuto i maltrattamenti subiti e ve lo dico chiaramente a mio avviso sarebbe bastato guardarla negli occhi per intuire la sua angoscia il suo terrore sarebbe bastato prestare attenzione ai tanti lividi che le coprivano il corpo non riusciva più nemmeno a camminare era una cosa seria quantomeno speri in una punizione esemplare per Barbara e Damiano ho letto che rischiano l'ergastolo quindi 30 anni che questa è la pena prevista per l'ergastolo qui in Italia spero si rifacciano tutti questi 30 anni spero davvero che vengano condannati all'ergastolo ma spero anche che non ottengano permessi premio uscite anticipate cose di questo tipo questi due esseri secondo me devono stare per lungo lungo tempo dietro le sbarre e infine penso al figlio adolescente di Barbara che si è già macchiato di un crimine così grave di un omicidio in così giovanità come può un genitore con del sale in zucca coinvolgere il proprio figlio quattordicenne in un piano omicida io trovo tutto così orribile raccapricciante e ovviamente fatemi sapere voi che cosa ne pensate sono molto curiosa di leggere le vostre opinioni sulla storia di Marzia una storia che a me ha colpito profondamente è terribile questo caso davvero è terribile che esistano delle persone come Barbara Vacchiano è terribile lo dico chiaramente per quanto mi riguarda quella donna dovrebbe bruciare all'inferno detto questo fatemi sapere che cosa ne pensate voi chiaramente tramite i commenti io vi leggo sempre sono molto curiosa insomma di sapere le vostre idee che cosa ne pensate sicuramente questo caso l'avete già un po' seguito grazie a chi l'ha visto quindi sono davvero curiosa di sapere cosa ne pensate io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti mi raccomando a far bene